L'Ovidiana Sulmona si appresta al debutto casalingo nel campionato di promozione. La squadra di Joachim Spina riceverà la baciga lupo vasto marina con l'intento di conquistare i primi punti dopo una prestazione tutto cuore ad Ortona che però non ha permesso di ottenere un risultato positivo. La concentrazione massima per ben figurare davanti al proprio pubblico pur con la consapevolezza che gli avversari saranno un osso duro da affrontare. La formazione di Roberto Cesario vorrà dare seguito alla vittoria della scorsa domenica ottenuta contro lo Scafacast grazie ad una tripletta dell'attaccante Giuseppe Letto. Una cosa è certa, l'entusiasmo farà da contorno al match in quanto sia Sulmona che Vasto hanno proceduto ad unire le proprie forze con altre realtà. In terra peligna c'è stata l'unione con l'Ovidiana mentre in quella vastese la fusione tra il Vasto Marina e il settore giovanile della bacica lupo. Condizioni che inducono entrambe a far bene. Il Vasto è una squadra da scoprire, è una squadra che è venuta fuori da una fusione anche loro una partita che per me è anche una scoperta. La cosa che sicuramente noi crediamo è che andremo a giocare nella nostra casa, nel nostro stadio e cercheremo di portare a casa i tre punti. Con questo chiedo anche alla gente, al pubblico di venirci a sostenere sperando di fare una bella partita ma magari di cercare di ottenere un bel risultato. Al Pallozzi si prevede una buona affluenza di pubblico per la prima in cassa di Biancorossi. Rientrerà dalla squalifica l'attaccante Edoardo Cucurullo mentre sarà assente il difensore centrale Devisi a Covone che dovrà stare fermo circa un mese per un'infortunio alla caviglia. Potrebbe rimpiazzarlo Massimiliano Di Bacco in quanto il nuovo innesto Valerio Cardile sarà a disposizione da martedì prossimo. Il Raiano si recchera a scafa le due squadre si sono già incontrate in Coppa Italia e entrambe vogliono rialzarsi dopo i rispettivi passi falsi nella prima giornata.